Ciao a tutti ragazzi e ragazzi bentornati in un nuovo video oggi faremo la yoga challenge la prima foto che abbiamo preso da internet è questa spera si vede c'è il flash, aspettate si si vede ok allora quindi Maria Greta sta sotto e sopra allora vai tu devi stare così aspettate ma la vuoi dire allora aiuto dai telefono io attacca un po' qua ok va bene allora io devo stare così Dio ti fai male aspetta ce la faremo oddio aspetta va bene i piedi non hanno male più qua devo fare meglio perciò puoi più giù no vale non mi rimuovere ok prima ok beh basta ce l'abbiamo fatta diciamo anche se teniamo il culo troppo e avremo mai niente alla prossima immagine fai vedere quale è questa qua aspetta ah ma si vede dentro ok allora sembra facile però è un'immagine d'accadere ok ci vediamo no vabbè non vabbè vabbè non aspetta ahah 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 no i bravo di ahah no i bravi mi ha mai messo ci hanno fatto una tavola ok forse ok vabbè ce l'abbiamo fatta la prossima immagine è questa questa però è con le mani dentro ecco poi dopo faremo quella con le mani fuori si forse vediamo se c'è no facciamola facciamola subito dopo facciamola non fa niente ma non è difficile andiamo a uscire le mani perchè io sto poi andiamo a uscire le mani aspetta e gli edizoli allora è difficilissimo provatelo aspetta mi stia anche bene le mani non mi posso lasciare ok vai male forte una aiuta sei davvero provato a spingere un po' di forte quindi io sto così mettiamo i piedi e poi tu ti mantieni poi lasci ok no oddio ci abbiamo fatto basta 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 la prossima immagine quale Mary è difficile è questa qua si aspetta tu Mary stai così ok poi dopo facciamo anche il contrario in che senso il contrario dopo facciamo anche che il contrario di questo no che tu stai sotto e io sopra vediamo che è difficile però per qua non abbiamo fatto il contrario vedremo vedremo questo ok andiamo io sopra aiuto aspetta un po' più là più là più là perché sennò io non mi vedo beh non vado più beh vale provaci tu ok devono stare molto vicine le gambe dai piedi perché sennò uno stanno più là ecco devi stare vicino ti fai male ti fai male? no si 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 vede tremi pure dai ok allora io ho acceso ui girls ui ui se la fa su leo ok mi devi far scendere prima me sto da un'ora così ok non fa niente non fa niente se è più qua o più là non fa niente comunque non mi sono l'ora ok ora questa qui fuori questa di prima prima ok questo è sì che vi scendiamo però anche se la faccio un po' a capo di cacchio però aspetta aspetta dic ed ok prima io sopra e prima tu su e poi dopo tu su allora tu stai così e tu ora stai così oh ah vai la tu sta così tu stai così, di mantenere i piedi d'ossi vai, tu stai così vai, tu stai così mi vieni prima cosa e perdami questa vai vai, io ce la stavo facendo ok dammi un piede, uno e dammi anche l'altro ok non ti preoccupare facciamo gli olio sopra aspetta ah, ora è giù sopra, giusto ok, ce la farò, chi lo sa non ce la farò mai non ci riuscirò io già così non ce la faccio oddio non aspetta, i piedi più larghi forti no forti no, non ce la faccio non ce la faccio, basta non fa niente ora è questa qui allora aspetta io non l'ho vista aspetta vabbè, hanno visto? no, perché se vogliono vedere meglio allora aspetta ah, ho capito io no devo stare le braccia incrociate forse aspetta a ah, now e poi and 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 però è in mezzo no? ok poi questa però è da sola non è a 2 tieni vabbè vediamola allora dobbiamo stare tipo così sembra facile più largile più largile meglio ok ora io oddio ok dai il video finisce qui spero vi sia piaciuto lasciate un like e iscrivetevi ciao ciao